Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24 domani a partire dalle ore 10 a Venezia. Si terrà la prima giornata dell'autonomia verso la concreta attuazione della volontà popolare. Il meeting organizzato da Giunta e Consiglio regionale del Veneto presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista vedrà la partecipazione del governatore Luca Zaia e l'intervento di costituzionalisti, tributaristi e fiscalisti. Il 22 ottobre è una data che è entrata a pieno titolo nella storia del Veneto e dell'Italia, ha sottolineato il presidente Luca Zaia che aggiunge nel 2017, in questo stesso giorno, sono stati oltre 2 milioni e 200 mila i cittadini veneti che si sono dichiarati favorevoli all'autonomia differenziata per la loro regione, con un referendum consultivo che ha visto il sì del 98% dei voti. Da quel voto, prosegue il presidente del Veneto, è germogliato un percorso che trova nella legge varata lo scorso 26 giugno la piena attuazione della volontà popolare. Nel frattempo, questa mattina, Zaia ha partecipato a Bari al Festival delle Regioni e delle Provincie Autonome, annunciando che l'anno prossimo il medesimo evento verrà ospitato proprio in Veneto. All'appuntamento era presente anche il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, che ha parlato di autonomia differenziata. Il 22 ottobre per noi e per legge regionale è la giornata dell'autonomia, quindi noi domani su Venezia avremo sessioni di incontro con costituzionalisti, tributaristi, fiscalisti per parlare di autonomia, per parlare non dello spacca Italia come lo definisce qualcuno, non della secessione dei ricchi, ma di una grande opportunità per questo paese. Il centralismo che esiste da quel 1 gennaio 1948 con la nascita della Repubblica e con l'approvazione della Costituzione è un centralismo che ci ha portato ad avere 3.000 miliardi di debito pubblico, ci porta ad avere purtroppo la tragedia di chi è costretto a fare la valigia per andare a curarsi fuori regione. A me sembra assolutamente inaccettabile che un bimbo quando nasce, in base a dove nasce in Italia, sa che futuro avrà. Quelli che oggi vorrebbero arrestare questo processo sono esattamente gli stessi che nel 2014 hanno impugnato la mia legge regionale che prevedeva la possibilità di fare il referendum. Impugnare una legge regionale per vietare i Veneti di essere auditi su un quesito non sovversivo, cioè vuoi che la Regione Veneto siano attribuite nuove forme e condizioni particolari d'autonomia, a me sembra molto grave. Cambiamo l'argomento per parlare del terribile incidente in cui tra le 14 e le 15 di ieri ha perso la vita Mirko Trevisan, un motociclista di 45 anni, residente a Galta di Vigonovo. Il tragico scontro mortale è avvenuto in via Barbariga a Fiesso d'Artico. La dinamica è stata chiara fin da subito, un Audi stava uscendo da via Cavour per immettersi sulla strada, ma si esporta un po' oltre lo stop, così quando la moto, che era sul punto di completare una manovra di sorpasso, è passata, ha travolto la parte anteriore dell'auto. Nello schianto la due ruote è stata sbalzata via e le due persone a bordo, il motociclista e una donna che stava dietro lui, sono state scaraventate sull'asfalto. Lui non ce l'ha fatta, mentre la passeggera di 44 anni si trova ricoverata ora all'ospedale di Dolo in gravi condizioni. Il conducente alla guida dell'audico è involta nello schianto, un signore originario di Fiesso non ha avuto conseguenze dal punto di vista fisico. Continuano nel frattempo le indagini dei carabinieri di Stra che stanno raccogliendo i dati dalle misurazioni, dalle immagini di videosorveglianza e dalle testimonianze al fine di ricostruire l'esatta successione di eventi che ha determinato lo scontro che in pochi minuti ha strappato la vita a un giovane uomo sulle strade del veneziano. Spostiamoci a Mestre dove nella notte tra venerdì e sabato è scoppiata l'ennesima elite violenta nella zona di Via Palazzo. Alla Zuffa, come da protocollo, è seguito l'allarme dei locali coinvolti nella doppia rissa. Un episodio simile si era infatti verificato appena un mese e mezzo fa. In quell'occasione, dalle bottiglie che i fascinorosi, poi fermati dalla polizia locale, si erano tirati addosso per strada, era rimasta colpita alla testa anche la titolare del bar, La Moretta. Si tratta di una zona che da troppo tempo non conosce pace, è tornata a ribadire la donna sabato intervenendo dopo che la notizia della lite si era diffusa sulla pagina Facebook del coordinamento cittadini del quartiere Piave. Appena abbiamo sentito le urla provenire da fuori, siamo usciti dalla porta del nostro locale. Erano circa le due e ci stavamo apprestando ad abbassare le serrande per la chiusura, racconta la titolare della Moretta, che aggiunge subito abbiamo visto tre persone in piedi e una a terra che era stata colpita e tramortita. Un cliente del locale la stava soccorrendo ma non abbiamo fatto in tempo a chiamare la polizia che quelli che si leggevano sulle loro gambe si erano già dileguati. A quel punto, conclude, è arrivata l'ambulanza. Un mese e mezzo fa, grazie alle immagini delle telecamere, ai rilievi e alle testimonianze, la polizia locale era riuscita a ricostruire i fatti e a fermare i responsabili. A seguito dell'identificazione, i bar che rischiavano la chiusura, poiché i fatti avevano turbato la sicurezza e l'ordine pubblico, sono stati scagionati dal momento in cui le indagini hanno confermato che appena la tensione aveva superato il limite, i gestori avevano immediatamente avvisato la polizia. I tre dell'altra notte sembravano essere ragazzi piuttosto giovani, mentre l'uomo a terra era più anziano, continua a titolare non sappiamo il motivo dell'aggressione, dico solo che sono disgustata da questa situazione. Vogliamo lavorare tranquilli, invece vivo nella paura perché tante volte sono sola e quando sabato ho sentito le urla provenire da fuori, ho subito pensato alla bottiglia che mi ha colpito a settembre. Voltiamo pagina per parlare dell'enorme successo ottenuto dalla camminata rosa che ieri mattina 20 ottobre ha riunito oltre mille persone a Venezia per promuovere la campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. L'evento organizzato dall'associazione Pink Lioness in Venice è nato dalla collaborazione tra Reale Società Canottieri Bucintoro e Avapo con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare all'acquisto di un elettrobisturi monopolare a plasma a bassa temperatura per l'ospedale civile di Venezia. La camminata rosa che rientra nel calendario di eventi dell'ottobre rosa ha preso il via alle ore 10 della stazione ferroviaria e si è conclusa intorno alle 12 alla Basilica della Madonna della Salute dopo un percorso di 5 km che ha visto sfilare una flotta di magliette rosa tra le calli della città lagunare. All'arrivo i partecipanti sono stati accolti dalle voci della Big Vocal Orchestra che hanno intonato un concerto sulla gradinata della Basilica. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi e concludiamo come di consueto con lo sport ritrovato un minimo di normalità sul fronte assenti ai box solo Parks e Manford anche se Caterin viene impiegato appena 4 minuti e Lever rimane in panchina tutto il match l'Umana Leier centra il primo successo in campionato conquistando il Palacarrara con un 64-77 contro la Estra Pistoia. E anche per questa edizione è tutto vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.